Allora I red dead qua I zombie Cosa positiva è che sono deboli contro la luce Quindi se gli illuminati diventano molto vulnerabili E basta una combo sola per sconfiggerli Per quanto ne so Una combo ben piazzata Ma potevo rubargli i soldi, diamine Ci sono altre statue Wow, 20 rupie, mamma mia Ok, cominciamo a dissolverne un po' Magari quelle piccole per le prime E quelle grandi anche Credo che sia possibile dissolvere, giusto? Sì Un'altra porta E per dissolvere quella Credo che ci serva quello specchio, giusto? Sì Bang Abbiamo due nuove porte aperte E quella lì è chiusa per ora Quindi nada Andiamo prima a destra Fantastico Mani E nebbia Qui per ora non ci Non ci vado No, no Rischio troppo Andiamo prima di là Magari promette meglio Magari, magari, magari Sono una falchetta Una piccola falchetta Senza identità Oh mio Dio What the fuck Tu cosa vuoi? Hammer? Hammer! Oh, lanciano sassi Muori Dov'è l'altra? Non ce n'era un'altra? Vabbè, meglio così Cosa? Avevo preso anche i cuori Damn it Ok, qua Penso che non ci sia alternativa Dobbiamo passare qua in mezzo Altrimenti Tanto non sento rumori di mani Wow Ti ho vista, sai? Sono io quello che lancia le giare E i sassi E tutto quanto Solo io Solo io Non puoi battermi a giare in faccia Lo sai? Amico le bombe Ok Nice Oh, un cuneo Porta la luce nel mondo questo cuneo? Solo il tempo ce lo dirà Sì Poi tanto per interesse mio Voglio bruciare questi Ops Oh, un porta felicità Naturalmente E cos'altro? Niente Allora Qui c'è la luce Ma Dubito che Rifletterla Così farà qualcosa O magari sì No Quello che dovete fare Per assicurarvi Che ci sia sempre Il fascio di luce È Tirare lo specchio Direttamente sotto la luce Questo lo farà Riflettere automaticamente In quella stanza Che è la stanza centrale Ok Qua c'erano due mani Le abbiamo evitate C'è una porta Di là C'è una porta Che non ho visto No No C'è questa griglia Che mi impedisce Di passare Direttamente Quindi no Quindi c'è poco da fare Andiamo di là Magari di qua C'è qualcosa C'è qualcosa C'è un pikmin rosa Oh Anche qua c'erano degli standardi Che non ho visto Ah Bruisa Broz Magia E niente Ando un po' col vizio Di non mettere niente Questa non posso muoverlo Di specchio Immagino No Allora saremo costretti Ad andare dall'altro lato A vedere Ma Cosa succede Non Non voglio rischiare Che mi catturi Non fammi re Quindi Hop 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 Voglio vedere Se riesco Ok C'è uno scrigno Con una piccola chiave Muori 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 No Perché Muori 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 Oh 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 Muori 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 Vivi Crawlface Ok Ok Tu Ok Ga 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 Esplodi Queste mani sono davvero Snervanti C'è un'altra Cosa ne pensi se ti tiro addosso io un teschio No non funziona Yes Show me your moves Quante altre ce ne sono Un bel po' direi Qui rischio di fammi re Rapita E alle stelle No Uuuuuh Ci mi sbatte fin qua Dammit Vorrei dire dovrò sconfiggere di nuovo tutte le Le mani Uuuuh Almeno fammi re al sicuro Ragazzi non ci crederete cosa è appena successo Appena Ho appena sconfitto qualcosa come No no scherzo Uuuuh Davvero una martellata può ammazzarle anche Vabbè Ho Ho appena rubato qualcosa come 70 rupie Da un solo zombie Una cosa bestiale Uuuuh Nooo In Nooo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, finalmente, mamma mia. Fiorella non ha niente in confronto, diamine. Che cosi, sconfiggerli tutti, eh, per questo scrigno. E se uno vi prende e vi butta fuori, dovete rifarvi tutta la strada. Ci sono i due zombie all'inizio. E quando tornate ci sono di nuovo tutti. Se avete il potenziamento... Eh, questa è una offa del tesoro, ma... Perché lo dico? Cacchio. Ehm... Se avete il massimo delle frecce come me, dico... Il metodo migliore è buttarle su sei frecce a raffiche e basta. Non dategli la possibilità. C'è anche un contrattacco che potete fargli, ma non ho mai visto com'è. E non voglio nemmeno avvicinarmi a quei cosi, sinceramente. Sì, prendono famiglia e dovete tornare indietro. Se prendono voi dovete tornare indietro. E non è come tornare indietro da una stanza all'altra in cui... Boom. Si fa. No, resetta tutti i mostri di nuovo. Tornano. Yeah! Happiness. Ok, almeno ho ottenuto tutti i tesori qua in questa zona. Piantare in apposto. Ora resta solo la zona inesplorata. Quindi, eh, direi che possiamo proseguire. Sfamireva là sopra da sola. Perfetto. Io vado con il mio caro blocco. Assicuratevi di essere andati a... A sinistra prima di entrare in questa stanza. Perché è necessario... Che ci sia questo fascio di luce. Dovrebbero esserci mostri qua, credo. Ma non si sa mai. Eh, le ultime parole famose. Le ultime parole famose, pieno di spettri qua. Ok, per mostrarvi quello che succede. Ok, mi faccio possedere da un coso. E poi vado verso... Oh! Ok. Ora andate verso un fascio di luce. Ta-da! Altra cosa, potete illuminare questi cosi. Si, potete illuminarli e renderli fisici. Ora non ci riesco perché non ho... ...la pazienza per farlo. Ciao!